Ciao ragazzi, a venti giorni dalla partenza, io per voi e per la seconda volta in altri veste, come mi avevano chiesto, senza barba, senza sigaretta, un taglio un pochino più decente, voglio fare questa cosa, a venti giorni dalla partenza al Tancamanna. Ok, si riuscirò. Ci riuscirò prima o poi, non ti preoccupare Matteo. Ehi men, senti cosa sento, senti cosa penso, sentiti a me tu. Ehi men, vedi quel che vedo, vedi cosa vivo. Vivido anche tu, e spacca il mondo, spacca la testa. Se senti questa specie di festa, do non pensare a urlarlo adesso. Vivido anche tu, e spacca la testa. 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 senti lontano, segui la mia mano, io ti seguiro, no, le bocca, e spacca il mondo e spacca la testa, se senti questa stagione di pezza, ti rimane ora adesso, come se a te non si ferma lo stesso, vivo dei suoni che tu sentirai, non fermarti il problema adesso, se a te non si ferma mai. insomma ragazzi, il tankamanna, 7 giugno, 8 giugno in Zardegna, per un'estate da spacca tutto, ciao!